Ben trovati gentili telespettatori di Cilento Channel, quest'oggi ho fatto visita ad Antonio Santomauro, imprenditore, siamo qui dunque nel suo ufficio a Capaccio Pestum per parlare di economia. Allora Antonio come va innanzitutto, come stai? Diciamo che ce la capiamo, stando attenti un po' al tenore di vita, all'alimentazione e quindi cerchiamo di sopperire alle carenze che porta purtroppo l'età. Senti, noi siamo stati insieme a discutere forse due anni fa, se non vado errato, e parlevamo dell'economia soprattutto locale, che cosa è cambiato rispetto a due anni fa? Partendo da un concetto di fondo, di base, l'economia in generale sta attraversando un periodo piuttosto negativo e quindi la cosa si sta protraendo da diversi anni, ma a prescindere dal fatto locale è un fatto nazionale, perché se si persiste con questo stato di cose, con questo modo di gestire l'economia cercando di ostacolare tutto e tutti per quanto riguarda gli investimenti, tassando principalmente gli investimenti, assolutamente l'economia non ripartirà. Quindi diciamo il problema è sempre un discorso di burocrazia e anche e soprattutto di tasse. Sono due fattori importantissimi che hanno decretato questo stato di cose, la burocrazia innanzitutto. Io parto da un concetto e la storia insegna. L'uomo nasce con la voglia e con l'istinto di voler creare, progredire. costruire, abbellire un poco la propria casa, le proprie aziende, le aziende agricole e tutto quanto. E questa è la spinta che permette poi di creare quella vera economia che parte dal lavoro. Nel momento in cui si va a sviluppare il senso della proprietà, innanzitutto partendo dalla difficoltà di creare qualcosa, di creare un'attività, una impresa e questo è sotto gli occhi di tutti che principalmente la questione che hai citato tu, l'apparato burocratico ha influito moltissimo sugli investimenti. Tieni conto che quando un imprenditore pensa di voler realizzare qualcosa, il primo ostacolo quasi sempre anche inturmontabile perché se vai a sviscerare la questione nel senso totale ti accorgi che avrai tantissime difficoltà in questo groviglio di normative, di enti che debbono condizionare l'andamento e lo sviluppo o la realizzazione di qualche progetto, siamo arrivati all'infinito, quindi qualsiasi burocrati ti può creare un piccolo cavillo che ti interrompe quella progettazione. Ma perché sei arrivati a questo Antonio? È stata la politica che ha deciso tutto questo. Con questo sistema ha creato clientelismo, nel momento in cui ho la difficoltà, io imprenditore, nonostante sia una possibilità che mi deriva dalla mia economia, senza voler attingere spesso anche a nessun fondo come magari si potrebbe anche fare, però poi ti imbatti nell'apparato burocratico, questo apparato burocratico è stato sicuramente dettato e prodotto dall'apparato politico, perché nel momento in cui tu imprenditore o tu cittadino ti ritrovi nella difficoltà devi ricorrere al politico, il politico deve prendere il telefono e deve chiamare il funzionario, ci senti qua le solite cose che sappiamo tutti, adesso noi ci dilunghiamo su questo argomento perché poi si arriva anche a un argomento più delicato, perché nel momento in cui ti trovi di fronte alla difficoltà, molte volte purtroppo si scivola anche nel fatto che ti devi muovere anche in un altro modo e non mi far dire altro. Quindi questo è stato uno dei motivi che ha fermato l'economia assolutamente, invece se la politica avesse avuto un ruolo importante ma anche più sano nel vero senso della parola, doveva intervenire nel senso che tutte queste difficoltà che l'imprenditore, il cittadino si ritrova sulla scrivania quando progetta e quando pensa di voler realizzare qualcosa andava smentito, invece siamo ritrovati ancora di più in questo groviglio di normative che è molto difficile uscirne. Certo, torniamo alla domanda iniziale, quindi in due anni Antonio l'economia è andata sempre più peggiorando rispetto a due anni fa quando ci siamo incontrati? Ma sì, io penso di sì, per quanto riguarda le mie esperienze, sacrificando ancora di più la mia persona, la persona di mio figlio, la persona di mia moglie, stando sempre attenti, riusciamo forse a mantenerci in una certa forma di tranquillità, ma comunque è un andazio che non può protrarsi all'infinito, quindi se le imprese continuano a stazionare in questo diaframma, di concetti, di difficoltà diventa sempre più difficile. Parliamo della scelta del nuovo governo per quanto riguarda l'economia e il reddito di cittadinanza. Tu fondamentalmente ti sei fatto un'idea nel senso che potrebbe funzionare, potrebbe rimettere in moto, o meglio potrebbe dare l'opportunità a questi giovani di trovare un lavoro, secondo te, e quindi rimettere in moto anche la produttività del paese? Guarda, io la normativa precisa non l'ho esaminata né l'ho guardata, perché io ritengo… Diciamo che il reddito di cittadinanza dovrebbe aiutare quelli che veramente hanno bisogno, non sostituire lo stipendio a chi potrebbe lavorare. Adesso veniamo su un argomento delicato, cioè il lavoro c'è o non c'è? Purtroppo può darsi, non lo so perché non ho cognizione di causa, può darsi che in questo reddito di cittadinanza si potrà annidare anche qualcuno che ci vuole marciare, quindi non so come andrà a finire. Invece per quanto riguarda più territorialmente, quindi parliamo del territorio di Capaccio Pestumi, il Cilento, insomma, secondo te c'è lavoro e quindi i giovani vogliono lavorare oppure c'è impossibilità e quindi sono costretti ad andare via. Che sensazione hai? Ma vedi, quando… Ritorniamo un attimo all'argomento di prima. Se c'è ancora qualche possibilità o qualche indirizzo all'investimento e viene boicottato da questo apparato burocratico di cui parlavamo prima, è ovvio che i giovani che potrebbero trovare occupazione in riferimento a quello che magari l'imprenditore progetta, sicuramente non saremmo… è tutto dovuto al fatto che difficoltà burocratiche, poi si aggiunge la difficoltà economica pure attraverso la crisi che hai citato tu. È ovvio che i ragazzi debbano andare via, però ripeto, se ci fosse un sistema più sunnello non dico il 100%, ma il 50-60% si attutirebbe il fenomeno dei ragazzi che debbano purtroppo andare via. Insomma, quindi tu mi stai dicendo che la soluzione sta in una politica molto più efficace per quanto riguarda la burocrazia più snella e soprattutto la possibilità di dare magari agli imprenditori più strumenti per fare la loro impresa. Noi dobbiamo partire da un concetto, la vera economia, la vera occupazione, i veri utili vengono prodotti dal lavoro attraverso l'opera dell'impresa. Lo Stato sì, deve avere un suo apparato di gestione di tutto, però deve essere in riferimento a provocare questo fenomeno di cui parlavamo prima. Quindi questo è un po' il problema che oggi attanaglia tutta la nazione. Per scivolare poi sul secondo argomento che hai citato tu, l'altro fattore che ha determinato la crisi, è questa tassazione selvaggia su tutto. Fra poco andremo a dire, quando usciamo di casa, apriamo la porta, tu oggi respirerai tanti metri cubi di aria. Se noi viaggiando, si ha in zona che oltre convini nella stessa nazione, io penso che anche tu hai notato moltissimi i cartelli vendesi vendesi vendesi. E aumentano giorno per giorno, io sto notando questa cosa. Quindi il politico che ha il potere o la presunzione di voler gestire la cosa pubblica, l'apparato statale, regionale, dovrebbero porsi un quesito. Tutti questi cartelli vendesi vuol dire che c'è un motivo. Se la gente si vuole liberare, e poi scivoliamo sul fatto dell'occupazione, se la gente si vuole liberare delle cose che ha prodotto magari con sacrifici di anni i nostri genitori hanno pensato di fare casa per loro, poi la casa per i figli e magari anche per i nipoti, quando c'era possibilità, adesso noi troviamo dove ti giri e vendesi vendesi vendesi. Capannoni in vendita, abitazioni in vendita, appartamenti in vendita. Ce lo poniamo il quesito. Perchè avviene questo? Perchè è stata tassata la proprietà. Intanto però perdonami Antonio, la politica tace in tutto questo. Specialmente su questo argomento è assolutamente assente. Questo problema non se lo pone proprio, ma la cosa grave è che non si pone il problema né in un senso né in un altro senso. Perché si vogliono vendere le proprietà acquisite, partorite, con sacrificio, create, con tante difficoltà sempre dovute poi a quella famosa burocrazia? Magari qualcuno ha rischiato anche la galera, no? Perché poi ti sei accorto che c'erano 20 centimetri in più, allora arriva la legge, ti metti i sigilli, poi vai a fare un giudizio che durerà una ventina di anni. Questo è un altro argomento assolutamente dedicato che se voi ci possiamo scivolare dopo. Però il vero fatto è che trovare tutti questi cartelli vendesi vuol dire che un'altra cosa vuol dire che nessuno farà altre cose. Chiaro, se la gente si vuole disfare di quello che ha creato, troverai tu altra gente disposta a fare qualche altra cosa e quindi automaticamente il risultato è quello dell'immobilismo totale. Come dire, un paese si sta spopolando, è impossibile che io vado a viverci. Certo, certo. Ma a parte questo è stato civilito il senso dell'investimento. Come dicevamo prima, l'uomo nasce con la voglia di creare, no? Si compra una macchina, si compra le 500 e poi vuole la macchina più grande e vuole ancora qualcosa di più. Si compra un appartamento e poi si accorge che se ne compra un altro attivo magari sta… Questa è la vera forma, la fortuna dell'economia, nel senso che la gente ha voglia di fare. Si costruisce un'azienda agricola per esempio, costruisce una stalla per la muncitura, coltivano dei terreni, vede che le cose vanno bene, vuole ampliare. Ma questa è la vera fortuna dell'economia e dell'occupazione. Perché se io ho un capannone o un edificio dove tengo dieci persone che lavorano con me, se io ho l'incendivo cerco di allargarmi col capannone anziché dieci ne avrò venti di collaboratori. Nel momento in cui viene sviluppo il senso della proprietà si tassa tutto selvaggiamente, ma quando si è arrivati a tassare i capannoni a metro quadrato attraverso la famosa Imo, mi pare che si chiama. Si è arrivato al massimo a capolinea. Io vedo amici miei produttori, produttori che io ormai sono anni che frequento il nord per motivi di lavoro, molti amici miei in cui poi tu sai dopo tanti anni si instaura anche un rapporto di amicizia, di convidenza, si sta insieme, si parla. Dice guarda Antonio, se io delocalizzo la mia attività e me ne vado a dieci chilometri dal convine è tutta un'altra storia. Allora nel momento in cui avviene questo il problema non se lo deve porre l'imprenditore, se lo deve porre il politico di turno, è chiaro il concetto. Invece l'economia si provoca secondo me in un altro modo, provocando gli investimenti, chiaro? Cioè stimolare l'imprenditore? Stimolare, dico vabbè, allora chi ha voglia di, anche per esempio tipo sgravi fiscali? Ma certo, ma anche l'apparato burocratico innanzitutto. Come fanno d'altronde delle nazioni se non vado errato, nazioni magari che stanno arretrate, vedi la Polonia insomma. E appunto perciò, quindi c'è un motivo. Allora, molto banalmente, cerchiamo di non inventarci niente visto che non siamo capaci di inventarci qualcosa, ma andiamo a scopiazzare un poco, guardiamo gli altri come si muovono. Parliamo di imprenditori locali. Qual è il tuo giudizio sull'impresa locale? L'impresa locale ha fatto gli imprenditori locali, che io ho la fortuna di conoscere un poco tutti quanti, perché in tanti anni di attività ho avuto modo di… Niente, se qualcosa di positivo, se qualcosa di positivo si ritrova nella Piana del Sele, certamente non lo si deve alla politica. Magari ci sarà stato anche qualche contributo all'epoca, qualche incendio, diciamo, ed è un fatto positivo. Ma principalmente lo si deve al sacrificio dell'imprenditore, che come dicevamo poco anzi molte volte ha rischiato anche la galera per ampliare l'albergo, per ampliare il capannone, per ampliare la stalla, per ampliare l'azienda agricola, per ampliare… anche la casa per i figli per esempio, per evitare magari l'ungaggine burocratica uno fa anche la camera abusiva, perché c'è alla base una difficoltà burocratica. Che cosa si dice però tra loro? Si stanno muovendo per fronteggiare un po' questa crisi? Ma guarda, l'imprenditore per quanto voglia fare e cercare di dare un indirizzo politico, gli rimane sempre difficile, perché comunque innanzitutto è preso dai propri problemi giornalieri. Poi, parliamoci chiaro, ci si è allontanati dalla politica. Quando nel momento in cui tu da imprenditore sei abituato ad essere pratico e veloce nelle tue cose e ti accorgi anche che per impostare un discorso politico diventa quasi assurdo, uno si allontana dalla politica. Questo è il vero problema secondo me. Senti, allora partiamo dal discorso politico locale di quando Palumbo è sceso in campo. Mi risulta che molti imprenditori lo hanno appoggiato. Poi però sono rimasti scontenti. Che cosa è accaduto? È ovvio che ognuno può parlare per le proprie esperienze personali per non dire cose inesatte. Io ti posso parlare della mia esperienza personale. Io avevo creduto in questo progetto, di fatto anche con lo stesso Palumbo, per anni, per 2-3 anni, si parlava del più del meno, di quello che si doveva, si poteva fare, peccato che il territorio è abbandonato così, peccato che il potenziale c'è e non si riesce. Nemmeno per esempio faccio un esempio a produrre un lungomare, visto che la zona è prettamente turistica. Quindi io ero anche un po' invogliato a discutere su questi argomenti perché molte cose, secondo me, che sono una carenza del territorio, sono anche di facile realizzazione. Citando per esempio il lungomare, è una zona a vocazione turistica, abbiamo delle strutture, abbiamo degli stabilimenti balneari che con i sacrifici dei gestori, degli imprenditori fanno economia durante l'estate. Ma è mai possibile che una posizione geografica, che non dobbiamo scalare montagne, non dobbiamo abbattere muri, non siamo riusciti nemmeno a creare un lungomare decente dove la gente può andare a passeggiare anche nei mesi primaverili ed autunnale, non dico d'inverno. Però creare un riferimento su un bel lungomare dove c'è anche la predisposizione perché là bisogna fare gli sai che cosa, bisogna solo mettere un po' di ordine, riordinare la pineta, pulirla, abbattere qualche pianta che ormai è in cattivo stato e quindi è di facile realizzazione. Quindi in virtù di questo ci eravamo un po' impegnati su questo cambiamento. Eravati entusiasmati. Certo perché uno che amando il territorio cerca di dare un contributo in questo senso e con Palumbo si era discusso molte volte di questi argomenti e c'era stata questa forma di entusiasmo che si era creata. Poi purtroppo lui ha avuto l'abilità di distruggerlo in pochissimo tempo, adesso non sto qui a raccontare i particolari, però è cambiamento di atteggiamenti, in modo repentino. Poi ripeto, quando perdi il contatto con la persona nemmeno puoi giudicare, dopodiché quello che è venuto fuori sotto gli occhi di tutti, quindi non sto qui né a voler giudicare, ne a prendere parte in questo contesto che da una posizione di entusiasmo siamo tornati a una posizione di assoluta carenza. Certo, infatti è andata come è andata, la città è ferma adesso. Quindi politicamente siete stati informati di come le cose sono venute fuori, quindi alcune cose, io poi non avendo, dal momento in cui è stato eletto, io non ho avuto più l'opportunità di parlarci, quando nella fase preventiva per mesi si era discusso, ma senza accampare pretese assolutamente, era proprio quell'amore per il paese che mi portava a dare qualche suggerimento, cercare di dare un contributo, ma senza assolutamente aspirare a cariche, perché non sono il tipo che sono allettato da queste cose. Dopodiché c'è stato un assoluto silenzio, ho tentato un paio di volte di mettermi in contatto, mi è stato risposto con un laconico, ok, è finita lì, perché volevo ancora tentare di dare qualche contributo. Quindi è finita lì, poi le cose sono andate come sono andate, io sotto il profilo umano sono rimasto fortemente deluso, perché, ripeto, lo facevo con amore per il mio paese, perché io sono nato qua, io da ragazzino mi ricordo, che andavamo giù alla spiazza e trovavamo spesso le macchine che erano affondate nella sabbia, allora noi davamo una mano per tirare fuori queste macchine e io mi ritrovo dopo tutti gli anni che sono passati ancora a ritrovare le macchine che vanno a parcheggiare nella sabbia, qualcuno vuole tentare di arrivare alla battiglia proprio, quindi è rimasto uno scandalo che... Antonio, ma perché è così difficile amministrare Capaccio Penso? Perché? Questa è una domanda da un milione di dollari. Perché le cose facili le fanno diventare difficili. Noi a Capaccio, Capaccio Penso ma abbiamo bisogno di poche cose ben indirizzate. Purtroppo la politica che ha gestito la cosa, il territorio, non le ha saputo interpretare. Io ti faccio un esempio, tornando al discorso dell'amministrazione Palumbo. Come si fa? Tu sai che a Pestum ci sono gli spettacoli estivi dove la gente arriva, arriva l'artista di turno, famoso o meno famoso, sono venuti nomi importanti. Allora io mi sono chiesto, perché io di quella iniziativa, l'Inora Village, sono rimasto sconcertato da come è avvenuto questo, come si è verificata questa cosa. Quindi partiamo dal concetto che Pestum è famoso nel mondo, la gente ci viene con piacere, non solo per i tempi, principalmente per i tempi, per il mare, per tante cose. È ovvio che durante l'estate si vuole dare la possibilità di attingere, di vedere degli spettacoli importanti. Cosa che è avvenuta, per esempio noi tenevamo il premio Charlot all'epoca che ha dato visibilità al territorio, ha portato artisti di fama nazionale e internazionale, fummo capaci anche di perdere quella opportunità, chiaro, partendo da questo concetto. Dopodiché arriva la nuova amministrazione e, come tu sai, gli spettacoli venivano organizzati di fronte nella zona archeologica, cosa che già è una grandissima fortuna, no? Per avere uno scenario del genere. Vedo che vanno a portorire un progetto che mi è stato riferito, io non parlo per cognizione di causa, ma parlo per cose che mi sono state riferite. Diciamo per giudizio... Pare, pare, no, non mi è stato anche confermato in altre occasioni. Pare che questi hanno sviluppato quel progetto dell'Inora Village per allogare gli spettacoli che venivano effettuati a Pestum, nella zona più bella, una delle più belle di Pestum, con uno scenario bellissimo che era il Tempio di Cerre, reilluminato, con pochissima spesa e poi ci voglio ritornare sul fatto delle spese per gli spettacoli, se mi rammenti tu perché io mi distraggo. Quindi automaticamente vanno a spendere un mare di soldi per creare quella l'Inora Village. Ma allora mi domando, se avevamo uno spazio del genere dove tutti ce lo invidiano e con facile attuazione, perché là è tutto predisposto già, no? E questi si sono inventati. Tutto questo nuovo progetto che non ha portato a niente, anzi ha portato a difficoltà, perché la viabilità è proprio sulla strada che porta verso Agropoli, e quindi c'era anche difficoltà di traffico, per entrare in un sito che hanno speso un sacco di soldi, pare circa 900 mila euro, ma così mi è stato riferito, se c'è qualcuno che vuole smentire lo può fare perché io poi non sono addentrato nella questione economica, però pare che hanno speso un sacco di soldi, per fare cosa? Per andare dal salotto di casa nel pollaio, quindi manca proprio la mentalità imprenditoriale anche in questo. Io quei soldi li avrei spesi per sistemare le strade di Pestum, Capaccio Pestum, che sono diventate la vergogna di questo paese. Tu do tutte le strade che percorri, se non stai attento rischi di andare fuori strada o di rovinare la macchina. Quindi quando si travissano le cose, si travissa il senso dell'investimento, e si delocalizzano degli spettacoli importanti come quelli che avvenivano a Pestum, e si portano, si vanno a riportare in una zona che è stata ricreata, è stata creata, spendendo tutti quei soldi, io mi domando, ma questi come fanno a poter pensare di fare una cosa del genere? Le poche cose che servono a Capaccio Pestum per spiccare il volo, quali sono secondo te? Lo annunciavi prima, in città. Allora, innanzitutto, partendo da Capaccio Capoluogo, che poi è la perla di questo territorio, perché tieni conto che durante i mesi estivi c'è un'escursione termica di 5 gradi, 4-5 gradi, difatti la gente preferisce salire a Capaccio la sera per gustare un gelato, mangiare una pizza, sui giardini, per la frescura e per tutto quanto. Quindi, innanzitutto, rivalutare il paese. Ci sono un sacco di abitazioni dovute al fenomeno della gente che va via, quindi si può provocare quel famoso progetto dell'ospitalità diffusa attraverso il recupero di queste abitazioni che sono rimaste abbandonate. Poi teniamo, in particolare, una località che si chiama Mondicelli. Là io vedrei tutti piccoli localini da dare in gestione ai ragazzi che hanno voglia di fare, compreso qualche localino notturno, qualche braceria, qualche gelateria, però in quel posto che è un posto favoloso. Quindi si andrebbe a rivalutare il patrimonio urbano, urbanistico e dando lavoro ai giovani, magari creando una sinergia fra l'ente comune e i proprietari che hanno abbandonato questi edifici, facendo un concordato, dice vabbè, tu tieni abbandonata questa proprietà, io non ti farò pagare niente più di IMU, tasse sulle proprietà, però troviamo un'intesa, diamo questi immobili in gestione ai ragazzi che ne hanno voglia, senza tassarli già a priori, quindi permettendo di usare questi immobili e poi ai ragazzi dare la facoltà di inventarsi qualcosa che vada in riferimento sia al turismo che alla loro stessa occupazione. Invece per quanto riguarda il mare, le strade, la viabilità? Allora il mare innanzitutto è il rivalutare la pineta, i parcheggi che andrebbero collocati a monte della pineta, magari, ma c'è un progetto, io mandai un progetto moltissimi anni fa in comune, che forse lo ritengo ancora il più valido, quindi rivalutare il lungomare, dando la possibilità agli albergatori, agli operatori turistici di ampliare nei limiti del possibile le loro attrezioni, secondo le loro esigenze, perché tu non puoi dire ad un albergatore fai, amplia le camere se non hai bisogno, ma all'albergatore che ne senti il bisogno tu lo devi favorire, anzi io mi sono sempre illuso di pensare a un amministratore che ogni tanto andassi a trovare qualche imprenditore e dice, senti ma tu hai bisogno di qualcosa, quindi questa è un poco la cosa che mi ero illuso di poter vedere, poi quindi la viabilità, ripristinare il sottopasso e per quanto riguarda la questione urbanistica tutti qua hanno voglia di piano regolatore, il famoso PUC, allora partiamo dal concetto di cui prima, il senso dell'investimento è stato sviluppo, quindi non penso che creando anche altri mille appartamenti troviamo gli acquirenti per mille appartamenti, io adesso parlo forse anche contro la mia stessa attività perché più si costruisce più io avrei possibilità di guadagno, ma ci vuole una ristrutturazione, ma con un modo diverso di ragionare mettendosi la piantina del territorio davanti e innanzitutto pensare alle infrastrutture, il sottopasso, i servizi prima di tutto, dopodiché la questione urbanistica se ne viene da sole, poi questo è un argomento molto delicato, molto complesso, quindi non lo possiamo racchiudere in poco tempo. Non mi hai risposto come bisogna amministrare Capaccio Pestum, visto che in tanti anni non non si riesce a portarla sul tetto del mondo, non solo per i tempi che è già conosciuta, ma soprattutto perché è una città favolosa con il mare, gli imprenditori, l'economia, l'agricoltura. Perché? Perché forse sono tante piccole frazioni che rappresentano nella loro identità, un piccolo paese forse. Ma questo sicuramente non favorisce, ma non la rende impossibile però. Ecco, io ti faccio l'esempio di Torre di Mare, la prima zona turistica di Pestum, i primi ospiti venivano giù alla Torre di Mare, là c'è il problema della famosa 220, chiaro? Che è il mille metri dalla fascia, dalla legge 220 che non permette l'edificabilità a un chilometro, a mille metri dalle mura, ed è un problema. Però io mi domando, sono d'accordo, non bisogna assolutamente più costruire nei mille metri, ma quel patrimonio che c'era era già stato realizzato, lo dobbiamo rigenerare o lo dobbiamo, due sono le cose, le cose, o si rigenera e si valorizza attraverso una progettazione concreta, funzionale e tutto quanto, o se no lo dobbiamo abbattere, perché in quello stato non si può stare. Se vogliamo una città moderna ci dobbiamo adeguare anche le strutture che erano presenti già prima e quindi le dobbiamo rendere usufruibili e le dobbiamo risanare in poche parole e quindi ci sono tutti i presupposti, perché ci sono degli architetti preposti a questo tipo di recupero, quindi questa è un'altra cosa che andrebbe rivista. Qua invece ci nascondiamo, no 220, sì sono d'accordo, che io vada a fare un'altra casa contro legge nei mille metri, è ovvio che non la posso fare, ma quello che esisteva lo dobbiamo rigenerare, lo dobbiamo risanare, perché sennò diventa un problema all'incontrario, igienicamente parlando lo dobbiamo abbattere, è chiaro il concetto. Senti torniamo un attimo alla politica locale, si va di nuovo alle elezioni nella prossima primavera, sembra siano tanti candidati a sindaco e ci sia anche la possibilità dell'ex sindaco di Agropoli, Franco Alfieri, più sì che no, ancora non è ufficiale. E poi ci sono i fratelli Sica, è ritornato Voza. Secondo te di questo passo, con tanti candidati, non si va a frammentare ancora di più il voto, a dividere ancora di più le idee e quindi non si riesce più a concretizzare in un unico polo quella che è l'idea di Capaccio Pestum del futuro. Questo è il vero problema di oggi, è proprio questo argomento. Per quanto riguarda la passata, l'ultima esperienza è stata traumatica, quindi per quanto riguarda per esempio Franco Alfieri che io mi onoro di essere suo amico ed è una persona valida in campo politico. Io ho avuto modo di scambiarci un attimo. Io lo ritengo, per quanto riguarda le mie esperienze, per come la vedo, come lo avrei visto prima dell'esperienza Palumbo, assolutamente valido, adesso c'è stata questa esperienza totalmente negativa e quindi diciamo che l'effetto si è attutito il fatto di voler creare un personaggio che magari poteva risolvere tutte le problematiche del territorio. In questo momento diventa un poco più difficile, perché? Perché innanzitutto bisogna partorire da quello che hai detto tu, ci sono altri candidati e sono medici, che uno dei problemi della politica è dovuto al fattore medico, un medico che ha 1500 libretti, chiaro? Puoi stare sicuro che se non dico tutto è 1500, ma per lo meno l'80% di quei 1500 libretti sono 1500 voti e quindi si disgrega tutto il concetto del voto. Ma il voto diciamo va al professionista e non al politico, no? Il voto di Franco, io lo vedo ancora più valido in una posizione diversa, io tranquillamente avendo uno come Franco alla Regione, che penso ci siano tutti i presupposti, dopo tanti anni di esperienza che si è fatta sul campo e nel Cilento e siccome c'è carenza di persone che ha vanno a tutelare le esigenze dei territori in Regione, penso che la posizione giusta per lui potrebbe essere quella la. Poi se fa questa esperienza ne prenderemo atto, è assolutamente un fatto positivo perché poi il confronto, però ripeto c'è questo diaframma dall'esperienza regressa che era un'esperienza che era l'aspettativa del futuro che è stata una tragedia. assolutamente. Senti, che tu ricordi qual è stato il miglior sindaco di Capaccio Pesto? Su questo mi devi rispondere perché poi storicamente sicuramente sei uno dei testimoni un po' più, no? Diciamo che ognuno di queste persone che hanno avuto l'onore e l'onore di amministrare questo paese hanno tentato di fare qualcosa, qualcosa hanno pur realizzato, però un vero cambiamento non c'è mai stato. Perché? Ti spiego. Secondo me è mancata sempre quella mentalità, un poco dici ma tu parli per raccognizione di causa. No, io parlo per dati di fatto, nel senso che quando uno ha l'onore e l'onore di voler amministrare un territorio, in un certo senso deve diventare imprenditore di se stesso. Tu mi porti a risollevare alcune questioni che io ho tentato di portare sul piatto dell'esperienza del territorio. Ma se per esempio ti faccio... voglio scivolare un argomento che è anche attuale, no? Noi abbiamo avuto l'esempio di una piscina costruita anche in una posizione geografica sacrificata perché se tu... non è che ci sono tantissimi palazzi qua, ma io sono andato una volta lì per accompagnare mia nipote... Parliamo della piscina Poseidone, giusto? Per essere chiari con i nostri telespettatori. Anche se non c'è una questione urbanistica intensa, ma io ho dovuto girare per arrivarci, quindi va bene. Poi, a proposito della piscina, io lanciai un'idea molti anni fa... Dico noi abbiamo il campo sportivo Mario Vecchio che è in una posizione strategica ideale... Io dissi una volta, non mi ricordo al sindaco... Che ha ricevuto, scusami se ti interrompo, il manto sintetico. Ecco, una cosa possiamo dire che è stata fatta? Ci dico, sì. Era una battuta, perdonami. Sulla piscina Poseidone. Ma cosa parlare di questa piscina? Sì. Perché io poi marginalmente, bene o male, sono sempre stato un poco coinvolto in questo... Sì, dobbiamo fare la piscina, arrivano i fondi regionali. Mi permessi di dire, fate una cosa voi che ne avete facoltà, alloghiamo la piscina, però una piscina moderna, anche olimpionica, dove si può fare il piccolo e il grande. Esatto. E l'andate a posizionare nel campo Mario Vecchio, che all'epoca era Rigamonti, quando erano i miei tempi, quando modestamente anche io mi esibivo in quel campo. Quindi mi è rimasta... In serie? Sì. Con la Poseidone abbiamo fatto le nostre esperienze all'epoca. mi ricordo i famosi derby in Porti, in Portiere. Hai capito. E quindi abbiamo... Mi ricordo i famosi derby anche con l'Acropoli. È una notizia questa, Antonio Santomauro Portiere. di Furino, che molte volte ce lo siamo trovati di fronte quando c'erano... Che poi l'ha anche stato la Juve. E poi è stato il famoso Furino della Juve, Cianfrone, Pisciottano e Compagnabella, lo stesso Di Luccio, lo stesso... non mi ricordo... un sacco di amici comunque poi abbiamo avuto modo anche di vederci dopo, no? Certo. Quindi, tornando all'argomento, io dissi... Facciamola al posto del Camposino. Allora, siccome è ormai Capaccio Pesto, in virtù del territorio e del nome, ha bisogno di cose serie, di cose concrete, partorite un impianto sportivo polivalente e lo andate ad allogare alla Licinella, nella zona dove poi è stato partorito l'Inora Village. Però, siccome da quella zona, dal calzificio Salati fino al Solofrone, che si va verso Agropoli, che tu conosci bene, bastava progettare attraverso anche i finanziamenti del CONI all'epoca, dove si andavano ad allogare tutte le discipline sportive, chiaro? Un unico centro sportivo. Un centro che veramente, partorito con cognizione di causa, veniva sicuramente finanziato dalla comunità europea e non andavamo a disturbare nessuno, perché quella è una zona aperta, comunicava con Agropoli. Però quando io parlo di discipline sportive, io intendevo tutte le discipline, palazzetto dello sport, campi sportivi, addirittura una pista per l'automobilismo, che avrebbe portato economia al territorio. E sta benedetta piscina, anziché andarla a ingastrare dietro quei palazzi che, per ripeto, si andava a collocare nel campo sportivo. questo è un mio progetto di lunga data, parte da lontano, però ripeto, quando si parlò della piscina, dice andatelo ad allogare là, allocate la piscina e delocalizzate il campo sportivo e si fa un centro sportivo polivalente in quella zona, che sarebbe stato finanziato dal conio, attraverso una progettazione seria. Quando tu vai a partorire un progetto del genere e viene da una zona che si chiama Capaccio Pestum, non penso che la comunità europea non avrebbe preso indeso il messaggio, quindi questo per dirti parlando della piscina. Poi a proposito della piscina, come siamo capaci di complicare le cose? Questi riescono a realizzare questa piscina. Bene o male funzionava, arriva l'amministrazione Palumbo, vai in litte con chi aveva costruito questa piscina perché c'erano delle carenze strutturali. Ma mi domanda, nel momento in cui, se tu hai la mentalità imprenditoriale, ormai la piscina non è stata costruita, sta funzionando, se ci sono delle carenze, da buon imprenditore chiami chi l'ha realizzata e gli fai constatare attraverso un tuo perito, un tecnico, dice vabbè qual è il problema, che sta succedendo, sta accadendo tutto e allora se non sta accadendo tutto o c'è una problematica tecnica di condensa o qualche tubo che perdeva, tu devi imborre al costruttore di ripristinare immediatamente quelle carenze. C'era la carenze, ma anche se lo dovevi fare a spese tue, tu non potevi chiudere un impiantino del genere che tutto sommato… Qualcuno sostiene che doveva dare vantaggio alla piscina di Giungano, ti risulta? Non voglio entrare in merda di queste polemiche, comunque è successo anche questo, è stata chiusa la piscina, si è andata in conflitto con l'impresa, con chi l'ha costruita, non lo so con chi, adesso che cosa succede? Che attraverso la lungaggine amministrativa e anche sotto il profilo della lungaggine per quanto riguarda i famosi giudizi attraverso le procedure, avremo un contenzioso con questi per una trentina di anni. Quindi si è andata in causa? Si è andata in causa e questa causa, questo volevo dire, chissà quanto durerà questo giudizio, nel frattempo che cosa avviene? Che quella piscina andrà distrutta perché il tempo distrugge le opere, ci sarà una lungaggine amministrativa che non se ne uscirà e chi sa dove si andrà a parare. Quindi bisogna interpretare la politica anche in modo pratico, c'è la carenza, c'è qualcosa, vediamo di risolverla ma non la chiudiamo un'opera del genere che tutto sommato buona, media, cattiva, comunque ormai era stata realizzata, comunque erano stati spesi dei soldi, anche pubblici. Senti Antonio, la discesa in campo dell'ex sindaco Marino, qual è il tuo pensiero? Io conosco Marino ormai da tantissimi anni, mi ricordo il padre di Pasquale che aveva una grandissima simpatia per me perché evidentemente vedeva un ragazzino che si muoveva insomma perché lui, ti dico questo, forse non lo sa nessuno e nemmeno lui lo sa, il padre Don Michele Marino che era amico di mio padre, la madre era amica di mia madre perché poi in un paese così, aveva questa simpatia per me e io mi ricordo che appena patentato portavo i fichi del Cilento a San Giovanni a Tetuccio dove mi pare lui proprio era il procacciatore di questo, era l'intermediario di questi prodotti per quella azienda, quindi mi vedeva e allora c'era questa cosa di… Poi con Pasquale abbiamo avuto delle vicende anche durante il suo mandato che non sto qua a citare né a giudicare, ma diciamo che è ovvio che ogni problematica poi l'importante è che si vada nel senso giusto e si vadano a risolvere i problemi, quindi per quanto riguarda Pasquale, per quanto riguarda gli altri non so a chi ti riferisce… Sei partito da lontano, io ricordo molto bene per esempio il dottore De Palma che è una persona squisita, gentilissima ed era un buro, ed è un buro della politica, come pure l'avvocato spirito, tu parli con uno che purtroppo qualche anno ce l'ha, Gaetano Fasolino che è amico mio da sempre, anche se molte volte non ho condiviso alcuni passaggi politici, però comunque è una persona… però alla base di tutto questo è che un grandissimo salto di qualità non l'abbiamo fatto, quindi evidentemente qualche carenza c'è stata, poi per citare anche gli ultimi, per esempio l'avvocato De Simone che pure si è mostro con positività all'epoca, poi non so chi venne… poi i recenti sono stati… Sica pure ha fatto già questa esperienza che adesso si ripropone mi pare… che ti voglio dire… la cosa purtroppo è sotto gli occhi di tutte, grandissimi passi avanti non ne abbiamo fatti… e infatti io proprio per chiudere questo intervento con te, mi farebbe piacere che tu lanciassi un messaggio a proposito anche delle nuove elezioni, insomma ai giovani e alle persone che devono in un certo senso decidere quindi le sorti della città di Capaccio Pesto, un messaggio un po' a tutti affinché si possa finalmente avere una città che guardi solo allo sviluppo, senza campanilismi, senza valorizzare quella o l'altra frazione, per esempio spesso si dice va bene, tipo l'ex sindaco Voza era il sindaco di Pestum, quindi non dava tanta importanza a Capaccio diciamoci la verità, almeno queste sono le cose che arrivavano anche a noi giornalisti… Sono argomenti metropolitani che ognuno poi dice la sua… Ecco, perciò mi piacerebbe che tu dessi un tuo messaggio finale per chiudere… che poi la buona amministrazione penso che porti anche a una buona economia o no? Indubbiamente è una conseguenza, una conseguenza naturale no? E allora a te l'ultima parola… Ma allora adesso innanzitutto vediamo come si predispone il panorama politico perché è tutto in embrione adesso, si vociferano delle candidature, si smentiscono poi… Però forse il messaggio all'elettore lo possiamo dare e agli imprenditori da parte tua… Un augurio… Un augurio ma soprattutto un messaggio ben preciso no? Un messaggio preciso… Chi avrà l'onore e l'onore, anche se vedo la situazione molto complessa eh… non è che… non lo so come andrà a finire perché purtroppo oggi anche il sistema politico è contorto… si è soggetti a tanti condizionamenti… Comunque… Troppa frammentata… A prescindere sì… A prescindere… Chi avrà l'onore e l'onore di amministrare penso che dovrà concentrare l'attenzione su quattro o cinque cose… E sono punti che secondo me non sono nemmeno di difficile attuazione perché oggi la questione economica è quella che è… Il comune è indebitato pare sia addirittura in fase preventiva di dissesto finanziario… Quindi è una cosa da analizzare bene… Però… ripeto… Comunque va amministrato questo paese… E va amministrato come… Secondo me… Incominciare ad immettere nel tessuto politico quella mentalità imprenditoriale… Innanzitutto vedere un poco costi e ricavi… Chiaro… Quando… Quando entra… Come… Come… Come complessità diciamo economica… Dopodiché ti regoli con le spese… Tagliare assolutamente i rami secchi… E… Moltissime cose… Che si possono fare… In perfetta economia con una squadra ben addestrata… Oggi c'è l'abitudine negli enti pubblici… L'appalto… L'appalto… L'appalto che poi… Ti fa pensare a tante altre cose… Qualsiasi cosa… Dobbiamo cambiare… Un… Un… Una lambadina… Una lambadina… Facciamo l'appalto… Alla ditta… Alla ditta… Alla ditta… Quindi innanzitutto… Cominciare a ragionare in questi termini… Riprendere un poco la manutenzione per bene però… Non tappabuchi… Le strade… Il lungomare… Rivalutare Capaccio… Ripristinare assolutamente il passaggio… Sottopasso… Che è stata un'altra… Un'altra… Grossa… Assolutamente… Assolutamente… È stato… Non so come andò… Perché poi… Queste cose… Le può sapere solo chi è stato all'interno… Della politica di allora… Come è successo questo… E come… Non è stato ripristinato… Perché pare che… C'era la possibilità di ripristinarlo subito… Poi non lo so… I fondi… Non so… Non conosco la cosa… Quindi non mi pronuncio… E cercare di… Io andrei a ripristinare… Per esempio… Ecco… Ti faccio un altro esempio… Negli anni passati… Ci fu… Fu redatto un piano regolatore… Da un certo architetto Airaldi… Mi pare che si chiamava… Che non fu completato… Per le solite beche politiche… Quindi… Anziché poi andare… Vedi come si muove la politica… Fu riaffidato… All'architetto Forte… Un'altra… Altri soldi all'architetto Forte… E quindi… Abbiamo perso solo… Si è ricominciato da capo… Sprecando altri… Risorse… Altre risorse… Pagando altre parcelle… E nemmeno si è combinato niente… Perché… Sembra che in questo piano regolatore… Tutti vogliano… Tentare di arricchirsi… Non lo so… Questo piano regolatore… Sembra… Che dovrebbe… Risolvere i problemi di tutti… Invece… Secondo me… Non è tutto il contrario… Quindi andare a ripristinare… Io… Per esempio… Avrei ripristinato… Il piano redatto… Dall'architetto… Airaldi… E vedere tutte le infrastrutture… Che lui aveva previsto… E che non sono mai state realizzate… Dopodiché… Si passa al secondo… Al secondo… Sesto… Al secondo tempo… Diciamo… Adesso… Non lo so… Come andrà a finire… Per quanto riguarda… Questo argomento… Dicito un'altra cosa… Io ho avuto… L'onore di essere amico… Dell'ex direttore generale… Dottore Furcolo… Che è stato direttore generale dell'ASL… Salerno 2… Salerno 3 era… Salerno 3 era… Salerno 3 era… Si… Io lo conobbi… La buonanima di Variante… Si… All'epoca… Non so chi erano i riferimenti politici… All'epoca… Comunque… Io conobbi questa… Questa persona… Che ancora tutt'ora… Conosco… Esistava un certo rapporto di amicizia… Lo conobbi proprio all'Agri Pestum… Dove loro tenevano un convegno… Io andai… Per prendere un caffè… Mi fu presentato… E nacque un'amicizia molto sincera… Molto… 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 Molto positiva… Leale… E all'epoca c'era… Come direttore sanitario qua… Il dottore… Mi sembra si tratti di Vittorio Veneto… E capitò questo… In una discussione… Che eravamo a pranzo… E lui si lamentò con me… Che cercava da anni… Disperatamente… Un lotto di terreno… Per… Siccome loro stanno in Vitto… Come sede ASL qua… Lui aveva voglia di realizzare… Il centro ASL qua… La direzione ASL… Si… Però erano mesi… Anni… Che tentava di… Con l'amministrazione… Adesso non mi ricordo nemmeno chi era… Di acquistare… Di acquistare… Di acquistare… Un lotto di terreno… E dice… Mi portano qua… Mi portano là… Mi portano là… Poi alla fine… Non si conclude mai niente… E ho deciso… Lo andrò a fare ad Acropoli io… Questa cosa… Allora… Io mi permisi… Sempre con l'illusione… Di poter fare qualcosa… Per il paese… C'è sotto me… Date un attimo di tempo… E… Si… Perché… Vabbè… Vedo io… Se riesco a trovare una location… Adatta… A una… In poca parola… Non ti voglio… Non mi voglio… Prolungare sull'argomento… Fu trovato il terreno… In una posizione strategica… A contatto con… Con… Con il villaggio… Così chiamato… Il… Il centro urbano di Capaccio Scalo… A contatto proprio… Di fronte… Sulla… Sulla arteria che aveva verso Pestum… Di fronte all'ex liceo… In quella zona lì… Che era… Urbanisticamente parlato… Come… Come lì… Come venne la commissione… A vedere… Questo terreno… Si innamora… Dice… Meglio di così… C'è la bretella che viene dal villaggio… La strada che porta a Pestum… Fu acquistato il terreno… In tempo rapido… Senza… Senza… Cavilli… Fu progettato… Qua c'è una progettazione… Per la sede… Poi… Passarono dei mesi… Il dottore Furco… Andò in pensione… In poche parole… Non è… Non… Non… Non se ne sta… Non… Non so che fine ha fatto… Sia… Quel progetto… Attraverso… Quell'acquisto… Che evidentemente… E quindi… Automaticamente… È rimasto un altro spreco… Della cosa pubblica… Per non parlare di altre cose… Che adesso qui non sto a ramentare… Insomma… Quindi… Abbiamo perso diversi… Diversi treni… Per dirle in termini pratici… Insomma… Questo è il concetto… E mi piange il cuore… Perché purtroppo… Un'altra volta… Moltissimi anni fa… Io ero presidente dell'Associazione Commercianti di Capaccio… Facemmo anche… Diverse cose… Che furono… Apprezzate… E… Io avevo partorito l'idea… Delle ente fiere… Internazionali… Di Pestum… E non ti dico… Non ti dico… Ma purtroppo… Sono discorsi… Che non sono stati mai recepiti… E non… E tieni conto… Che all'epoca… Adesso voglio citare… Un… Una persona… Che mi è rimasta… Nel cuore… Perché mi onorava… Della sua amicizia… Ed era una persona… Che io stimavo moltissimo… Donnino Salati… Che era… Apparteneva… Apparteneva… Alla sua famiglia Salate… E che… Quando io gli parlavo… Di questo progetto… Lui mi fece… Chiaramente intendere… Chiaramente intendere… Che avrebbe avuto… Piacere… Addirittura… Di donare lui… Il terreno… Per fare un'opera… Del genere… E urbanisticamente… Era l'ideale… Per una cosa… Del genere… E un mio carissimo amico… Che all'epoca… Era… Membro del… Consiglio di amministrazione… Del Lende Fiere… Di Bologna… Mi mandò tutto il loro statuto… E mi… Ci avrebbe accompagnato… In questa avventura… Poi… Non se ne è fatto niente… Perché ripeto… Non c'è stato mai… Un vero dialogo… Impresa… Politica… E quindi… Insomma… Il tuo messaggio finale… La verità… Sembra di aver capito… Che è quello di dire… Cerchiamo di essere concreti… Questa volta… Perché… Troppe volte… Insomma… Progetti… Sono stati rimasti… Lì… Nell'oblio… E quindi… Mi raccomando… Bisogna far sì… Che… Ognuno di noi… Dia un contributo… Se… 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 Magari… Lo… Lo richiedono… Sono… Sono tutte persone… Che… Sotto il profilo… Umano… Amichevole… Sono… Persone… Che… Però… Ripeto… Ad incominciare… Ad interpretare il ruolo… Con una mentalità diversa… Cioè… Una mentalità imprenditoriale… Una mentalità… Produttiva… Una… Una mentalità pratica… Anche pratica… Perché se io… Per… Sistemare una canaletta… Mi basta un operaio… Un bob cart… Un quintale di cemento… Io non posso… Fare un progetto… Che dura… Che dura… Poi… Andiamo a fare l'appalto… Poi… Facciamo… Come pure… Per esempio… Le imprese… E gli albergatori… Sono stati gravati… In modo… Assurdo… Devo dire… Questo mi costa di persona… Per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti… Dove c'è stato… Un aumento degli oneri… A parte gli altri oneri… Quello è un altro settore… Che va rivisto… Secondo me… Assolutamente… È inutile star dire lì… No… Tu… Devi pagare… Devi pagare… Qua vogliamo pagare tutti… Perché siamo tutte persone… Per bene… E oneste… Però andare a gravare… Cose che… Ancora di più… Chi fa impresa… Vuol dire… Vuol dire… Ancora di più… Far crollare… L'economia… L'occupazione… Bene… Antonio… Io ti ringrazio… Per averci ospitato… È stato un piacere… E quindi… Ringrazio io te… Perché mi hai dato la possibilità… Di… Di dialogare sugli argomenti delicati… Che attanagliano il nostro paese… Un piacere… Poi c'è grande stima… E amicizia… Al di là del fatto che… Antonio Santomauro è anche nostro sponsor… E quindi ci aiuta… Grazie a lui… A portare avanti… Un discorso di informazione… Grazie a tutti dunque… Per averci seguito… L'appuntamento è rinnovato… A una prossima occasione… Con politica e economia… Grazie a tutti…